Presidente, noi ci assistiamo all'esempio anno di questa giornata che è stato al costruzzo demografico, quindi noi chiediamo formalmente come un sistema di proposizione di un diritto di un'altra consigliare per rilasciare una proposta stampa sopra il prodotto e la propria di un'altra consigliare, credo anche la consiglia del segretario, credo che non vada a questo il segretario a avere, continuare non i lavori ma a avere la seduta, continuare la seduta con l'approccio con la stampa e quindi chiediamo, chiedono i consiglieri in maniera in aula per il premio a conferenza stampa che volete fare con i giornalisti e questa è la richiesta, se vedete penso che non la pensi, se non la pensi, se non la pensi. La domanda è finita anche, credo, io che dico, io personalmente credo che sia giusto che nessuno era stato abitato, a parte della stampa, sia giusto che se vogliono fare delle domande anche i giornalisti sono venuti qua, sempre non è sempre molto corretto e ci assistono i lavori giornalisti, credo che saranno avuti nessuna comunicazione con noi, nel Presidente, nel Sindaco, della non presenza da parte loro, quindi io direi che si può procedere a qualche domanda da parte della stampa ai consiglieri comunali. Grazie. Grazie.